Musica Visto ieri la consegna dei rotoli di fieno per gli allevatori delle aree colpite dal terremoto, la raccolta continua. Crise economica, chiudono i negozi, centri storici deserti, difficile affittare locali, parla il titolare di MG Immobiliare Giovanni Campiglia. Ospedale di Polla, il comitato curo chiede chiarimenti al direttore dell'ASL sulla carenza di personale. Piaggine, l'onorevole Carmelo Conte torna nella sua terra d'origine per presentare il libro Coincidenze e poteri. Fuzzall, il punto sulle gare del weekend. Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale. Apriamo quest'oggi parlando di solidarietà. Sono stati consegnati ieri i primi rotoli di fieno raccolti nell'ambito dell'iniziativa un rotolo di fieno pervisso che rientra nel più ampio progetto denominato Emergenza Centro Italia Vallo di Viano. Promosso da quattro amici di Teggiano, Antonio Mea, Luigi Morello, Cono Tropiano e Bita Antonio Cubucci, con il supporto di Giuseppe D'Amico e Cono Tropiano. Durante la giornata di ieri trascorso avvisso, gli amici hanno avuto modo di constatare che l'emergenza fieno e foraggio per gli animali continua. Pertanto il gruppo prosegue nella raccolta. Chiunque sia interessato può contattare direttamente Antonio Mea tramite il suo profilo Facebook oppure, sempre tramite Facebook, la pagina Emergenza Centro Italia Vallo di Viano. Sono stati consegnati ieri mattina i rotoli di fieno raccolti in questi giorni dagli amici di Teggiano, Antonio Mea, Luigi Morello, Cono Tropiano e Bita Antonio Cubucci. Nella mattinata di ieri, alle prime luci dell'alba, due tir carichi di 64 rotoli di fieno sono partiti alla volta di visso, scortati dai promotori della raccolta e da Giuseppe D'Amico che cura la comunicazione relativa alle iniziative di solidarietà per incontrare il sindaco del piccolo comune in provincia di Macerata, nelle Marche, Giuliano Pazzaglini e consegnare agli allevatori i rotoli di fieno. La giornata ha permesso agli amici tegianesi di constatare con i loro occhi le difficoltà dei contadini del posto, costretti a dover fare i conti con una serie infinita di scosse sismiche con conseguente pericolo per le stalle, a rischio crollo, e pericolo per gli animali e le intense nevicate. Una situazione che ha impedito agli agricoltori di recuperare la giusta quantità di foraggio per alimentare gli animali. Da qui il primo cittadino alcuni giorni fa aveva lanciato l'allarme chiedendo aiuti concreti per la categoria ormai in ginocchio. I quattro amici tegianesi hanno recepito subito il messaggio e in pochissimi giorni hanno raccolto un cospicuo numero di rotoli di fieno grazie anche all'immensa generosità di tutta la popolazione agricola del Vallo di Diano che ha aderito all'invito e in massa hanno voluto donare parte del fieno all'oro necessario per aiutare gli allevatori delle marche ben consapevoli del dramma che l'evento sismico li sta costringendo a subire. Ieri mattina poi la prima consegna dei rotoli con gli amici Antonio Mea, Luigi Morello, Cono Tropiano e Vita Antonio Cobucci accompagnato da Giuseppe D'Amico e Cono Tropiano che hanno voluto essere presenti anche per avere un'idea più chiara della quantità di foraggio occorrente alle popolazioni di Visso e poter così continuare nella raccolta. Un'iniziativa che ha arricchito profondamente gli amici sia dal punto di vista umano avendo avuto la possibilità di essere vicini alle popolazioni e di manifestare la vicinanza di tutto il Vallo di Diano e della provincia di Salerno alle persone colpite dal dramma del terremoto e della neve ma anche per l'iniziativa avviata visto anche la consapevolezza della grande necessità di fieno che occorre alle popolazioni dell'area per consentire loro di poter ripartire e intanto di affrontare l'emergenza con maggiore serenità. L'iniziativa denominata Emergenza Centro Italia Vallo di Diano sta raccogliendo applausi da tutte le parti oltre alla vicinanza e alla disponibilità a contribuire alla raccolta fieno giunta dai responsabili della Col di Retti anche il consigliere regionale con delega all'agricoltura Franco Alfieri ha voluto complimentarsi con gli amici di Teggiano ed ha voluto lanciare l'appello anche ai cittadini cilentani ad aderire alla raccolta postando sul proprio profilo Facebook il link della pagina di Emergenza Centro Italia Vallo di Diano Un grande esempio di solidarietà scrive l'onorevole Alfieri sul suo profilo Facebook che un comitato spontaneo di cittadini tegianesi affiancato da numerosi agricoltori del comprensorio sta offrendo con l'iniziativa un rotolo di fieno pervisso il nobile obiettivo continua è aiutare le aziende agricole di Visso cittadine della provincia di Macerata che insieme a tante altre località dell'Italia centrale è stata duramente colpita dal terremoto e dalla neve questa iniziativa spiega Alfieri è la dimostrazione innanzitutto del grande cuore di coloro che l'hanno ideata e sostenuta e dell'importanza di rimanere uniti di fronte alle gravi difficoltà che sempre più spesso il nostro paese sta vivendo mi auguro di cuore, continua rivolgendosi ai cittadini cilentani che tanti altri prendano esempio dagli amici di Teggiano e dintorni facendosi promotori di iniziative di solidarietà a favore di chi in questo momento vive situazioni di così forte disagio e dolore I dati emersi in questi giorni in merito all'attività commerciale in campagna che continuano a chiudere ha lanciato anche l'allarme desertificazione dei centri storici un allarme che è sentito anche a Sala Consilina dove pare sia sempre più complicato riuscire ad affittare locali per l'apertura di esercizi commerciali che possano rianimare il centro cittadino per cercare di riportare un po' di movimento l'agente immobiliare Giovanni Campiglia titolare di MG Immobiliare ha proposto ai proprietari di locali da affittare un'offerta per incentivare eventuali commercianti ad aprire attività nel centro storico Ascoltiamolo Noi siamo presenti sul mercato da 22 anni sono gli ultimi 3-4 anni che c'è questa crisi che ha colpito tutto il Vallo di Diano ma secondo me tutta la provincia di Salerno forse tutta l'Italia perché basta, non è che i negozi sono chiusi solamente a sala se si va sul corso di Salerno anche sul corso di Salerno ce ne sono molti chiusi poi dopo ci sono questi paesi dell'entroterra che sono stati travolti dai centri commerciali dalle vendite online in questi giorni abbiamo alzato questo polverone perché la nostra agenzia regalava 6 mesi di affitto ne stanno parlando un pochettino tutti il problema secondo me è che dobbiamo convincere delle persone a investire sul nostro territorio soprattutto su Sala che è il paese capofila Lei ha detto che dobbiamo convincerli a investire sul nostro territorio quindi immaginiamo che vanno convinti anche a investire dei centri storici quali sono le principali motivazioni che allontanano magari un esercente o comunque una persona intenzionata ad aprire un negozio o un esercizio commerciale qualsiasi nel centro storico magari preferire la periferia Allora su Sala Consilina il problema principale soprattutto di quella strada nostra via Matteotti dove è nata la polemica è il parcheggio sicuramente poi dopo comunque mancano un sacco di uffici perciò secondo me bisogna portare delle infrastrutture in modo da proprio popolare tutta la strada il problema principale di Sala rimane il parcheggio Lei prima ha accennato ad un'iniziativa che avete lanciato anche un po' per sensibilizzare magari avvicinare il cliente al centro storico in cosa consiste e com'è possibile ottenere questa agevolazione e poi soprattutto perché avete deciso insomma avete preso questa decisione drastica Innanzitutto ci sono dei locali sopra Sala che sono chiusi da 3 o 4 anni siccome non abbiamo avuto proprio richieste in questi 3 o 4 anni abbiamo concordato con questi proprietari siccome devono pagare l'Imu lo pagano uguale che è una tassa sulla proprietà e a Sala è una delle più alte della provincia di Salerno abbiamo fatto questa promozione proviamo a regalare questi 6 mesi nuovi imprenditori che vogliono investire su Sala hanno un pochettino di respiro sta pure funzionando questa cosa noi in 4 giorni abbiamo fittato già due locali sopra Sala i prezzi poi dopo sono scesi perché prima erano leggermente più alti però adesso con questa crisi sono pure scesi perciò qualcuno ha di nuovo voglia di tornare sopra Sala quindi insomma diciamo le prospettive sono positive per il futuro secondo lei? allora speriamo perché abbiamo avuto una marea di richieste con questa promozione adesso volevamo allargare questi 6 mesi gratuiti anche ad altri locali stiamo un pochettino contattando tutti i proprietari per vedere a chi aderisce a questa iniziativa ma penso che un 80-90% aderirà a questa promozione e passiamo alla cronaca lavoro sommerso e mancato ispetto della normativa sanitaria per questo diverse attività commerciali sono finite nei guai a seguito di specifici controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina coordinati dal tenente Davide Acquaviva 73 sono gli esercizi commerciali del Vallo di Diano controllati nell'ambito di specifiche indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina coordinati dal tenente Davide Acquaviva finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica del rispetto della normativa sanitaria negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande al termine delle verifiche è stata sospesa l'attività di un circolo privato e sono state elevate sanzioni amministrative pari a 145.940 euro le operazioni di controllo sono state effettuate in collaborazione con il personale specializzato del nucleo dei carabinieri ispettorato del lavoro e del nucleo antisofisticazioni e sanità di Salerno nello specifico i militari di Polla hanno deferito in stato di libertà a San Pietro Altanagro due soggetti pregiudicati padre e figlio rispettivamente di anni 55 e 30 gestori di un circolo privato notturno in quanto avevano installato e utilizzato in assenza di comunicazione all'ispettorato del lavoro impianti audiovisivi per controllare a distanza i lavoratori il locale infatti risultava videosorvegliato in assenza di qualsiasi tipo di autorizzazione inoltre risultavano impiegati in nero 10 lavoratori l'attività del club è stata quindi sospesa sono stati anche controllati e sanzionati i titolari di un bar di Atena Lucana e di un pub di Sant'Arsenio per aver impiegato tre lavoratori a nero infine i militari di Montesano sulla Marcellana hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti del titolare di un bar del posto per aver omesso di segnalare ai pubblici ufficiali l'inosservanza del divieto di fumo da parte dei clienti in violazione della cosiddetta legge antifumo questa mattina presso l'aula magna dell'istituto di istruzione superiore Marco Giulio Cicerone di Sala Consilina indirizzo costruzioni ambiente e territorio si è tenuto il convegno prevenzione del rischio sismico e interventi di consolidamento erano presenti diversi esperti tra ingegneri, geometri, geologi vigili del fuoco, protezione civile ognuno dei quali ha portato il proprio contributo alla causa dell'iniziativa voleva infatti essere un importante momento per la formazione dei futuri geometri e di informazione per approfondire la tematica e sensibilizzare verso tali argomenti Oggi siamo molto felici perché il nostro istituto storico il De Petrinis si fa luogo di raccordo, di sinergie infatti gli studiosi, i tecnici gli operatori del settore mettono insieme tutte le loro competenze per la formazione dei giovani i quali non solo approfondiscono delle tematiche perché nell'ambito del progetto extracurricolare già studiano il recupero degli edifici in zona sismica ma diventano anche cittadini più consapevoli perché il nostro obiettivo comunque è la diffusione della cultura della prevenzione Il mio intervento verterà sui fondamenti per un intervento efficace ed efficiente in caso di emergenza e poi nella fase preventiva c'è nell'elaborazione dei piani comunali di protezione civile io sono stato co-redattore di questi 15 piani di protezione civile di 15 comuni del comprensorio più del piano comprensoriale di protezione civile dove vengono analizzati tutti i rischi presenti sul territorio inoltre all'azione di intervento in caso di emergenza Un piano di protezione civile è fondamentale non solo tenerlo ma anche diffonderlo fra la popolazione e questo è uno dei punti cardino utilizzare le scuole per diffondere i piani di protezione civile come comportarsi e cosa fare in caso di emergenza I piani allora in Regione Campania solo il 39% dei comuni c'è il piano comunale di protezione civile per fortuna noi grazie all'uncimiranza delle amministrazioni locali già dal 2012 tutti i comuni del comprensorio hanno un proprio piano di protezione civile ora è la parte un po' più difficile quella di diffonderlo fra i cittadini di diffondere i principi che ci sono nel piano comunale nel piano comprensoriale di protezione civile Certo, un importante momento capita in un momento particolare per noi abbiamo avuto appunto un attimo di disastri a livello nazionale parlare oggi con i giovani parlare di mitigazione quindi parlare oggi di monitoraggio, di prevenzione di interventi per il miglioramento alla fine delle nostre strutture il nostro patrimonio edilizio che è molto vecchio, molto vetusto è di grande importanza li sensibilizziamo a questo sono sicuro che facendo formazione all'interno delle scuole quindi affiancando con queste attività parascolastiche un intervento di crescita culturale e professionale sia da parte loro che naturalmente anche da parte nostra Sarebbe importante focalizzare l'attenzione su quelli che sono i giusti comportamenti che la popolazione studentesca è opportuno che adotti durante e dopo le scosse di terremoto è importante perché praticamente ci si salva la vita considerato che è statisticamente provato che nella maggior parte dei casi le morti sono dettate più dal panico che dalla scossa sismica è giusto che noi tutti indistintamente dai ruoli, dalle professioni dalle attività che si svolgono impariamo ad adottare questi giusti comportamenti impariamo quali sono i luoghi sicuri delle nostre abitazioni, delle nostre scuole dei nostri luoghi di lavoro per salvarci la vita prendendo coscienza del fatto così come ha detto lei che viviamo in una zona purtroppo ad alto rischio sismico In una lettera del Comitato Curo si chiedono chiarimenti all'ASL di Salerno sul mancato arrivo di nuovi medici presso l'ospedale Luigi Curto di Polla una situazione si legge che arreca un notevole disagio ai malati già in terapia si chiedono quindi tempestivi interventi Con una lettera indirizzata alla direttore dell'ASL di Salerno Antonio Giordano e per conoscenza alla Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca il Comitato Curo chiede chiarimenti circa la grave carenza di personale sanitario nelle parti di pronto soccorso pediatria e cardiologia unità coronarica dell'ospedale di Polla nonostante l'atto aziendale preveda 228 posti letto ed identificato quale SPOC nella rete del lictus celebrale e SPOC per l'emergenza cateologica nonché PST nel trauma e SPOC per l'emergenza pediatrica i nuovi medici che sarebbero dovuti essere trasferiti nel nosocomio di Polla non sono ancora arrivati arrecando scrivono dal Comitato un notevole disagio ai malati già in terapia e a tutti gli utenti del nostro comprensorio nell'arresto della missiva il Comitato sottolinea l'importanza dell'ospedale di Polla sia per il territorio di riferimento che per la sua posizione strategica sulla 3 Salerno-Reggio Calabria e ricorda come nel marzo dello scorso anno al momento della presentazione della petizione popolare il Comitato ebbe ampie rassicurazioni sul potenziamento del presidio ospedaliero invece rimarca il Comitato Curo attualmente i pazienti devono trasferirsi in altri ospedali della medesima ASL o della regione Basilicata con un forte aggravio dei costi e con palese disagio a conclusione della lettera si chiede cosa è accaduto perché non è stato realizzato quanto previsto dall'atto abiziendale se ci sono ritardi nell'applicazione dell'atto medesimo e se sono state adottate variazioni o modifiche alla programmazione effettuata e se ci sono responsabilità individuali da denunciare inoltre il Comitato rimarca perché anche nel caso delle selezioni interne per il direttore sanitario di distretto il territorio dell'ex ASL 57 anche presentando un numero di utenti superiori al distretto 69 non debba avere due figure distinte una per direttore sanitario di distretto e l'altra per il medesimo ruolo relativamente al presidio ospedaliero in attesa di disposte da parte degli interpellati il Comitato chiude ricordando che non ci fermeremo perché sappiamo che difendere il diritto alla salute dei nostri concittadini e tutelare i lavoratori dell'ospedale sono un dovere etico ed imprescindibile ieri sera grande partecipazione nel suggestivo borgo di Piaggine negli Alburni dove l'onorevole Carmelo Conte si è recato per presentare il suo libro Coincidenze e Poteri in cui si ripercorrono gli anni della politica italiana dalla prima repubblica ai giorni nostri un percorso che l'onorevole Conte ha avuto modo di vivere in prima persona essendo stato oltre che parlamentare e consigliere regionale anche ministro per le aree urbane in tre legislature e sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Cassa per il mezzogiorno attraverso la presentazione del libro è stato possibile analizzare quindi il percorso della politica italiana e i cambiamenti avvenuti in questi anni l'evento è stato organizzato dal Comune di Piaggine in collaborazione con la Banca Montepruno al fine di ridare attenzione ai piccoli centri e magari di sensibilizzare la politica attuale verso una maggiore vicinanza a quelle che sono le esigenze dei cittadini presenti al tavolo dei relatori con la moderazione del responsabile della comunicazione della Banca Montepruno Antonio Massandrea oltre al sindaco di Piaggine Guglielmo Vairo anche il direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese Massimo Paolucci parlamentare europeo e Stefano Caldoro consigliere regionale le conclusioni sono state affidate all'autore del libro Carmelo Conte ascoltiamo le interviste che abbiamo realizzato non credo che la politica possa essere considerata come un ritorno la politica è un valore assoluto è un percorso sempre aperto è in crisi questo sì la politica il mio libro ripercorre alcune fasi della politica nazionale quella alla quale ho partecipato anni 60 anni 80 in particolare e poi questo ultimo periodo metto a raffronto le diversità il libro in fondo nasce proprio dall'esigenza di riproporre la politica perché è l'unico strumento che può aiutare le parti più deboli del paese i territori più deboli appunto come Piaggini in generale il Mezzogiorno rispetto al Nord perché gli strumenti del potere non sono nelle mani delle persone meno abbienti ma di quelle più abbienti noi abbiamo un solo strumento la politica per il riscatto di queste realtà per me questo significa non il ritorno a Piaggini significa dare una spinta a queste zone perché facciano la politica e si facciano valere io non sono un politico tutti lo sanno e noi mi esprimo su quello che è stato l'andamento politico di questi anni c'è solo da rilevare che purtroppo assistiamo a un immobilismo assoluto un momento in cui tutti quanti avremmo bisogno di rivedere i nostri territori attivi di rivedere le nostre persone capaci di muoversi stasera presentiamo un libro di una persona che a me è molto cara cara alla nostra banca che è l'onorevole Carmelo Conte che in tempi non sospetti è stato vicino al nostro istituto ma che ha dimostrato veramente di saper dare qualche cosa io dico ancora una volta che di questi personaggi purtroppo ci mancano io non tolgo niente agli altri però dobbiamo ammettere che personaggi come Carmelo Conte come Caldoro come tanti altri purtroppo ci mancano assistiamo e abbiamo una classe politica che non credo sia all'altezza della situazione forse questo territorio meriterebbe di più ma insomma diversa dal punto di vista del lavoro prima c'erano dei forti partiti organizzati oggi questi partiti non ci sono più quindi c'è un sistema anche di adesione comunicazione con modelli totalmente nuovi diversi quindi non direi più facile più difficile diciamo che rispetto al passato forse il passato ha avuto la cosetta prima repubblica maggiori disponibilità e risorse per poter anche rispondere alle comunità locali quindi da questo punto di vista la politica era più forte sicuramente oggi lo è molto meno la crisi economica è una crisi molto dura e quindi questa si ripercuote anche sulla politica e vediamo che oggi prevale il voto di protesta perché chiaramente quanto i cittadini vedono che non si riesce a rispondere più come un tempo alle loro esigenze giustamente si fanno prendere da quella che è il richiamo alla protesta che poi spesso non ha risposte concrete però capisco che può essere uno sfogo momentaneo e adesso diamo la linea alla regia per qualche minuto di pubblicità bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale un vero e proprio giallo quanto accaduto al comune di Sant'Arsenio infatti in seguito a formale richiesta da parte del comitato no biometano della documentazione relativa all'istanza prodotta dalla società biometano salernitano srl il comune ha risposto che a seguito di ricerche effettuate nei locali comunali non è stata rinvenuta agli atti il comitato no biometano nell'esprimere tutto il suo sconcerto per il fatto si chiede che fine abbia fatto una documentazione così importante e soprattutto che si faccia chiarezza su quanto accaduto e andiamo avanti nella relazione semestrale della DIA al Parlamento si è rappresentato lo stato del fenomeno della malavita in Italia nel quadro relativo alla provincia di Salerno il Vallo di Viano sembra non comparire questo non vuol dire però che siamo un'isola felice vediamo nella relazione semestrale al Parlamento della direzione investigativa antimafia si disegna un quadro dei rapporti di potere mafioso nelle varie aree della provincia di Salerno 13 clan complessivamente individuari e operanti su diversi territori di influenza l'agronocerino sarnese rappresenta si legge l'area con una maggiore concentrazione di sodalizi ben strutturati e con proiezioni extra provinciali nella Piana del Sele in particolare a Battipaglia e Deboli l'indebolimento del clan Pecoraro-Renna e del contrapposto clan Defeo avrebbe scrive la DIA lasciato spazio nella gestione delle attività illecite a gruppi basati su strutture familiari anche questi coinvolti nel settore degli stupefacenti e delle estorsioni ad Agropoli è presente la famiglia dei nomi di Marotta con elementi del clan Fabrocino l'area del Medio e Basso Cilento a forte vocazione turistica e confinante con la Calabria appare infine esposta a possibili investimenti immobiliari ed imprenditoriali da parte della criminalità organizzata napoletana casertana e calabrese queste le parole nel rapporto della DIA non si parla esplicitamente di Vallo di Diano dove non esistono clan ma non per questo possiamo ritenerci ancora un'isola felice che tanto vantiamo lo aveva detto non più tardi di dieci mesi fa il capo della procura nazionale antimafia e antiterrorismo Franco Roberti nella sua annuale relazione che aveva lanciato l'allarme infiltrazioni mafiose dopo la chiusura del tribunale di sala consiglina lo si era capito lo scorso luglio con la maxi operazione dei ROS che aveva portato all'arresto di 58 persone tra cui 4 di sala consiglina affiliate al potente clan muto che opera nel territorio della provincia di Cosenza in particolare su tutto il versante tirianico cosentino il Vallo di Diano non menzionato non perché isola felice ma perché terra di mezzo dove le diverse organizzazioni mafiose investono creano affari e trafficano dove convivono silenziosamente ieri pomeriggio il ministero dell'istruzione ha reso noto l'elenco delle materie per la seconda prova della maturità 2017 poche le novità scopriamo quello che attenderà i maturandi latino al liceo classico matematica al liceo scientifico lingua straniera al liceo linguistico sono le scelte del ministero dell'istruzione per la seconda prova di maturità di quest'anno nessuna novità rispetto a quanto prevedibile già alla vigilia soprattutto al liceo classico dove dopo la versione di greco dello scorso anno era scontata la scelta del latino per quest'anno per quanto riguarda gli altri licei queste le scelte scienze umane per l'omonimo liceo ditto ed economia politica al liceo delle scienze umane opzione economico sociale discipline artistiche progettuali al liceo artistico teorie analisi e composizione al liceo musicale tecniche della danza al liceo careutico per gli istituti tecnici invece le scelte sono queste per l'indirizzo di amministrazione finanze e marketing ci sarà la prova in economia aziendale per l'istituto del turismo la prova in discipline turistiche aziendali per chi frequenta meccanica meccatronica energia la seconda prova verterà su impianti energetici disegno e progettazione sistemi impianti del mezzo per l'indirizzo trasporti e logistica topografia per l'indirizzo costruzioni ambiente e territorio scienze e cultura dell'alimentazione la prova per gli studenti dell'indirizzo servizi enogastronomici e ospitalità alberghiera mentre per l'indirizzo servizi commerciali ci sarà la prova in tecniche professionali dei servizi commerciali infine nell'indirizzo produzione industriali e artigianali la prova di tecniche di produzione e organizzazione e mentre per l'indirizzo produzione industriali e artigianali la seconda prova riguarderà linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva la maturità avrà inizio il prossimo 21 giugno mentre la seconda prova si svolgerà il giorno 26 i maturandi dunque hanno a disposizione circa 5 mesi per non farsi trovare impreparati a questo importante appuntamento e passiamo allo sport ancora K.O. del Futsal Claravì e della Caggianese vola in vetta invece l'S di Pertosa è appena trascorso un fine settimana amaro per il Futsal valdianese nel massimo torneo regionale ancora un K.O. per il Futsal Claravì la formazione del presidente Spinelli vende cara la pelle contro il Caserta Futsal e riesce a domare gli avversari fino al 4 a 4 poi negli ultimi sette minuti di gioco la formazione ospite realizza tre gol con i quali indirizza in modo definitivo dalla propria parte la gara e i tre punti vanno via dal Palazzingaro nel campionato di C2 girone C la Caggianese era chiamata ad una prova di forza tra le muramiche contro l'Atletico Nocera una prova che Morrone e Soci non hanno saputo offrire al cospetto di una squadra molto più avanti in classifica contro i Nocerini termina 2 a 6 e la classifica torna ad essere deficitaria per i Granata che restano al terzo ultimo posto ma con ancora in corso per la salvezza nel campionato di serie D girone F papari puntati sulla sfida tra ASD Pertosa e a Tredico e Oleboli la sfida di cartello di questo turno di campionato viene vinta 6 a 2 dalla formazione del presidente Ciro Manisera che resta così in vetta alla classifica insieme al Belvedere Battipaglia che al Solve ha il suo compito vincendo in trasferta sul campo dello Spartans Salerno per quanto riguarda le altre valdianesi bene il futsalinsteia Polla che batte 10 a 0 Antonio Esposito ancora più rotondo è il successo della Dolce Vita che vinge 11 a 0 contro la San Gregorio mentre osservava un turno di riposo lo Sporting San Pietro Con lo Sport termina il nostro telegiornale vi ringrazio di averci seguiti e vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti